La gente è a casa ma non tutta purtroppo e proprio pochi minuti fa ho dovuto chiamare la polizia locale e anche i carabinieri in quanto in alcune zone ci sono affollamenti di persone, 10 o 15, che stanno bevendo tranquillamente la birra oppure stanno facendo così, come fossero in ferie. Io sono contento di tutta quella gente, il 90-95% che stanno rispettando le regole non sono contento di queste persone che non si rendono conto ancora della gravità della situazione quindi chiedo a tutti veramente di rimanere a casa. Noi abbiamo un mercato a chilometro zero di frutta e verdura però sono già tre settimane che è sospeso e che anche adesso abbiamo prolungato la sospensione quindi non vogliamo creare affollamenti quindi l'abbiamo chiuso in accordo con la col diretti del paese.